Le tre principali ragioni per utilizzare queste Puma Deviate Nitro 2 che secondo me rappresentano una delle migliori scarpe per correre gli allenamenti in maniera veloce ma anche per fare i lenti e i lunghi in primo luogo sicuramente la presenza della doppia mescola Nitro Elite nella parte superiore, Nitro normale nella parte inferiore questa schiuma Supercritical vi consente sicuramente di correre velocemente ma anche di appoggiare sul cuscino al tempo stesso la presenza di un plate in fibra di carbonio che non è così aggressivo come invece tutte quelle delle Super Shoes questa cosa vi potrà consentire di correre fartlek, ripetute e allenamenti veloci ho apprezzato l'atomaia, il battistrada e il bloccaggio del piede nella parte posteriore secondo me questa è una scarpa azzeccatissima tra l'altro un miglior rapporto qualità-prezzo tra tutte le scarpe complete in fibra di carbonio nei prossimi giorni recensione completa, stay strong, keep running ci vediamo alla prossima